Domani nella sala della Concordia, Palazzo Municipale, alle 17.30, rifletteremo su una questione che ci è sembrata attuale, ecco perché la vogliamo affrontare, rispetto alle etnie diverse e alla salute mentale e agli equilibri di fragilità collegati. Ecco, questo è quello che faremo. Lo faremo anche con un incontro musicale per alleggerire il problema. Tutto qua, domani saremo più dettagliate, ovvio. Lei domani sarà presente, su che cosa si concentrerà il suo intervento? Sulla importanza di organizzare i centri di salute mentale anche alla luce delle nuove emergenze, tra cui questa è la migrazione. Ricordo che i centri di salute mentale hanno una serie di compiti, che non sono quello di curare, ma anche quello di lavorare in prevenzione di agnosi precoce. In questo contesto si pone anche il problema dei migranti, quindi tanto più, ricollegandomi a quello che ha detto in Serra, noi siamo sensibili all'accoglienza e anche alla differenza multiculturale, tanto più probabilmente riusciamo a rendere meno traumatica il reinserimento di queste persone. Grazie.